Se sei un giovane tra i 18 e i 29 anni ed intendi avviare una piccola attività imprenditoriale, puoi accedere al Selfie Employment, il fondo che finanzia tali iniziative con prestite a tasso zero compresi tra i 5 e i 50 mila euro. Il Comune di Napoli, per sostenere i giovani napolitani in tutte le fasi dell'accesso al finanziamento, mette a disposizione due sportelli informativi dedicati al fondo presso gli uffici del SWAP e del Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo. Per ulteriori informazioni consulta il sito dedicato garanziagiovani.gov.it.